Ciao a tutti, secondo me la giornata più bella che ricordo in assoluto è stata la medaglia che ho preso a Berlino nell'Omnium quest'anno, il secondo posto. È stata una medaglia molto sentita, visto che sarebbe stato l'anno dell'Olimpiade e quindi è stata una grande forza, una grande carica e è stato qualcosa che mi porterò sempre dentro, che mi aiuterà nella realizzazione dei miei sogni e dei miei obiettivi. Vi auguro a tutti un bellissimo anno nuovo e un grandissimo bacione con pieno di speranza. Ciao!